I nostri colleghi polacchi hanno già dichiarato che al prossimo vertice Nato chiederanno di dispiegare le forze di pace dell'alleanza in Ucraina. Spero che sappiano di cosa stanno parlando. Questo significa che si troveranno di fronte forze armate Nato e russe, uno scenario che tutti non solo hanno voluto evitare prima, ma hanno sempre detto che non sarebbe mai dovuto accadere. Quello che sta succedendo nel mondo non riguarda solo e non tanto l'Ucraina, ma gli sforzi per creare un nuovo ordine mondiale. L'obiettivo è quello di contenere la Russia, così come qualsiasi altro paese che agisce in modo indipendente sulla scena globale. Nell'ambito della direzione assunta dalla Nato nei confronti della Russia, l'Ucraina è stata scelta come strumento per sopprimere l'indipendenza della Russia. Gli Stati Uniti non sono interessati alla rapidità dei colloqui fra Russia e Ucraina, vogliono mantenerci in uno stato di ostilità il più a lungo possibile. I colloqui sono difficili dal momento che le controparti ucraine sembrano aver capito i punti sui quali occorre accordarci nei negoziati, ma stanno cambiando costantemente la loro posizione, rifiutando le loro stesse proposte. È difficile scacciare la sensazione che i loro alleati statunitensi li stiano tenendo per mano. Se consultate i politologi, sia nostri che occidentali, vi diranno che gli americani non sono affatto interessati ad una rapida conclusione di questo processo. Vogliono continuare a riempire l'Ucraina di armi. Vengono fatte dichiarazioni provocatorie sul mandare aerei MIG sovietici dall'est Europa, nonché gli Stinger, che sono una minaccia colossale, perché in seguito si diffonderanno decisamente in tutta Europa. Sembra proprio che vogliano mantenerci in uno stato costante di combattimento per il maggior tempo possibile. Ma noi abbiamo salute, esperienza, spirito e volontà per difendere quel che stiamo difendendo, per assicurare in modo permanente la sicurezza della Russia e, più in esteso, il benessere di coloro che vogliono vivere in Ucraina, ma che si considerano loro stessi rappresentanti della cultura russa in tutte le sue manifestazioni. E a proposito dell'ordine mondiale, credo che occorra lavorare sull'idea di trasferire la sede delle Nazioni Unite dagli Stati Uniti a un paese neutrale. C'è proprio bisogno di lavorare su questo.